Musica Droga marchiata Messina Denaro e Totorriina. È stato arrestato un 28enne a Marsala dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Marsala coordinati dalla Procura della Repubblica. Hanno scoperto un vero e proprio deposito all'ingrosso di sostanze stupefacenti che fungeva anche da laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Da giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino alla periferia marsalese fino a quando hanno fermato un incensurato del posto di 28 anni. Dopo aver aperto con le chiavi il deposito aveva fatto ingresso nello stesso rimanendo circa un quarto d'ora. Una volta uscite i carabinieri lo hanno bloccato e a bordo dell'autovettura aveva un 50 grammi di cocaina pura, ma nel magazzino è stato trovato un vero e proprio stock di stupefacenti. Panetti di ascice recanti e gli effigi di Salvatore Rina, Matteo Messina Denaro e del noto personaggio del padrino. I militari hanno sequestrato 13 kg di ascice, 700 grammi di cocaina pura, 700 grammi di marijuana contenute in diversi sacchetti di plastica. Sono stati rinvenuti appunti e contabilità al vaglio dei carabinieri. La droga sequestrata valeva sul mercato 200.000 euro. Triste epilogo di un litigio tra coinquilini cittadini rumeni a scoglitti. Morto un 43enne rumeno, l'omicidio si è costituito e i carabinieri è stato arrestato. L'episodio si è verificato in un'abitazione di campagna occupata da 5 coinquilina di origine rumena. Ova a seguito di un litigio scaturito per futili motivi legati alle faccende domestiche e all'approvvigionamento di beni alimentari tra due degli occupanti è rimasto vittima di morte violente Romash Vasile, di anni 43. Arrestato Dimitru Doloniuk, di anni 45, dichiaratosi da subito colpevole dell'afferato deritto. Lo stesso ha riferito di aver aggredito la vittima sferrandoli violenti e ripetuti colpi a mani nude, alla testa e al corpo, provocandone il decesso a seguito di un altergo nato a causa di un contrasto avuto per la gestione delle faccende domestiche. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero comunale di Vittoria per un ulteriore esame autoptico da parte del medico legale. L'uomo invece è stato arrestato e custodito alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo del patrimonio di Enrico Splendore, classe 67, divenuto irrevocabile in sentenza della Corte di Cassazione per un valore complessivo di 7,5 milioni di euro ed eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L'uomo è stato condannato per il reato di esercizio di giochi d'azzardo, nonché per associazione a delinquere, per esercizio abusivo di attività di gioche scommesso, in particolare per aver capeggiato un'articolata organizzazione finalizzata alla gestione di scommesse clandestine attraverso una capillare rete di raccolta, parallela rispetto a quello dei centri scommessi autorizzati, che si avvaleva di programmi informatici elaborati ad hoc. Il provvedimento di prevenzione ha fatto emergere, grazie anche ad approfondimenti del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria, una netta sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella disponibilità di splendore. Nel 2019 il Tribunale di Palermo ha ritenuto l'imprenditore soggetto socialmente pericoloso e ha disposto il sequestro del patrimonio. La definitiva confisca riguarda alcuni beni, 4 immobili siti a Palermo, 2 rapporti bancari, un intero compendio azientale di imprese individuali ad insegne a bar splendore, quote di partecipazione al capitale sociale di un'azienda operante nel settore dei trasporti, 3 autoveicoli e un valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Avrebbe commesso due distinte rapine aggravate dall'uso di armi. Si tratta di Alessandro Conti. Su disposizione della procura distrettuale, la squadra mobile ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come l'uomo sia responsabile di due rapine a danni di un ufficio postale e di una farmacia. Episodi commessi il febbraio del 2023. Travisato da mascherina chirurgica e berretto, ha intimato i dipendenti presenti brandendo un coltello la consegna di denaro contenuto nelle casse, così impossessandosi della somma di circa 670 euro per poi fuggire. In farmacia al centro invece indossava un cappuccio e un berretto e dopo aver minacciato i dipendenti col coltello ha preso la somma di 400 euro. Altre rapine però nei primi due mesi dell'anno corrente possono nell'area metropolitana catanese essere attribuite allo stesso Alessandro Conti. Rapine ai danni di vari esercizi commerciali. Operazione Fake Cars per la Polizia di Stato di Caltanissetta che ha seguito nove misure cautelari e soprattutto sequestrato 54 autoveicoli per un valore di un milione di euro. Articolate indagini su richiesta della Procura della Repubblica Distrettuale di Caltanissetta per un'associazione per delinquere allo scopo di reperire autoveicoli acquisiti illecitamente attraverso truffe realizzate a danni di società finanziarie e comportanti l'utilizzo di documenti falso o provenienti da reati di furto o appropriazione in debita commessi in territorio sia campano che siciliano. Fondamentale è la segnalazione da parte di alcuni cittadini vittime di truffe. Si è ricostruito il modus operandi messo in atto dagli indagati. Foto di due di questi, Amico Eugenio e Giornatana Michele, che sono stati emessi dalla Questura per individuare ulteriore persone offese vittime di truffa, considerato che gli indagati hanno più volte utilizzato documenti falsi per stipulare contratti. Dissimulavano l'origine illecita di autoveicoli commercializzati, tra cui la sostituzione di targhe a seguito di presentazione di false denunce, la formazione di atti notarili falsi o l'utilizzo di autoveicoli con numerazione del telaio ribattuta, simulandone la provenienza estera. Insomma, le auto venivano clonate e rinazionalizzate. I 54 veicoli utilizzati sono stati sequestrati nelle città di San Cataldo, Agrigento, Catania, Avellino e Reggio Calabria. Ci sono ancora indagini in corso. Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. I carabinieri denunciano 267 indebiti per settori, un danno erariale che si agire intorno all'1,3 milioni di euro. Nell'ambito di un'articolata attività investigativa avviata dalla provincia etnea del Comando Provinciale di Catania, congiuntamente con l'Inps e col Nucleo Ispettivo del Lavoro, i carabinieri hanno denunciato 267 persone. L'indagine ha consentito di documentare come gli indagati, ricorrendo a dichiarazioni mendaci o al contrario mettendo informazioni dovute, avrebbero ottenuto il sussidio senza averne diritto. Tre in particolare ai modus operanti, attraverso i quali furbetti avrebbero concretizzato le frodi. Il primo, che riguarda la maggior parte dei deferiti, si riferisce a coloro che, nonostante fossero già destinatari di indennità di disoccupazione agricola, avrebbero evitato di dichiarare il reddito del lavoro dipendente. È stato possibile assortare anche 25 extra comunitari che incassavano il beneficio, anche se non residenti in Italia, da almeno 10 anni, a cui si sono aggiunte altre 50 persone circa che avrebbero comunicati dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari. 40 soggetti gravati da pregiudizi di polizia per reati che vanno dall'Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente e di immigrazione clandestina. Presenti alcuni parcheggiatori abusivi e 11 appartenenti all'etnia seminomade dei camminanti di Adrano. La SLC CDL Sicilia agguarda con preoccupazione la riduzione del Fondo Unico Regionale Spettacolo per il 2023, che si ripercuoterà drasticamente sui lavoratori del settore, dice il coordinatore regionale Gianluca Patanè, che rischiano di non poter lavorare e di perdere la propria fonte di reddito. La riduzione è stata approvata in commissione e bilancio all'Assemblea regionale siciliana, con i fondi destinati dai teatri che passano da 6,8 milioni di euro del 2022 a 5,2 milioni per l'anno in corso. Si determinerà una inevitabile contrazione della platea dei beneficiari osserva Patanè, con gravi ricadute sui lavoratori dello spettacolo, già in affanno a causa della lentissima ripresa post-pandemica. Dalla SLC regionale dunque la richiesta all'assessore regionale Elvira Amata di un incontro urgente al fine di considerare questa decisione e di fornire attraverso misure fondamentali, come il FURS, un adeguato sostegno finanziario ai lavoratori dello spettacolo, quali professionisti essenziali per il nostro tessuto culturale e creativo, già privati dalla possibilità di esercitare la propria attività per troppo tempo a causa della pandemia. Ha ripreso a marciare la macchina organizzativa della 22esima edizione del premio letterario nazionale Elion Vittorini e del premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi alla sua quarta edizione. La manifestazione è promossa dall'associazione culturale Vittorini Quasimodo e dall'assessorata alla cultura della città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione Inda. Diverse le novità introdotte, due premi in denaro anche per i finalisti non vincitori. Inoltre al voto espresso dalla commissione di valutazione si sommerà oltre a quello del comitato studentesco di lettura anche quello del circolo dei lettori. Per il premio nazionale Vittorini, destinato ad un'opera di narrativa pubblicata nel mese di aprile 2022 al mese di marzo 2023, il termine assegnato alle case editrici per la presentazione delle opere da sottoporre al valio della commissione scadrà il 30 aprile 2023. Possono partecipare al premio opere di autori italiani viventi non esordienti. La commissione giudicatrice selezionerà entro il prossimo mese di giugno tre opere finaliste, tra le quali verrà individuata quella vincitrice. Creato anche un comitato studentesco di lettura che sarà composta dai studenti degli ultimi due anni degli istituti superiori della provincia di Siracusa. Oltre al comitato anche un circolo di lettori, individuato con la società Dante Alighieri. Il premio è un assegno di 3.000 euro, mentre ai due finalisti non vincitori un assegno di 1.000 euro ciascuno. La cerimonia si svolgerà poi sabato 9 settembre 2023 a Siracusa, secondo modalità che saranno successivamente rese note. Domenica 19 marzo è stato inaugurato nella chiesa madre di Campobello di Mazzara il cantiere sinodale diocesano su legalità e giustizia. Ogni dioce si ha la facoltà di istituire un cantiere supplementare rispetto a quelli che la ceci ha indicato. Dopo aver esaminato un po' la situazione nel nostro territorio abbiamo ritenuto opportuno di trattare questo argomento, capire insomma come la legalità e la giustizia funzionano nel nostro territorio. Campobello è stato oggetto negli ultimi tempi insomma di tante illazioni con i fatti che sono accaduti e noi riteniamo che questa cittadina ha il diritto anche lei alla giustizia perché è formata dalla maggior parte insomma di persone per bene, persone impegnate. Poi c'è anche una bella comunità ecclesiale a Campobello per cui riflettere sul problema della legalità e della giustizia credo che sia anche per Campobello un fatto di orgoglio. vogliamo iniziare proprio da qui da Campobello dove la nostra attenzione si tramuta con questo cantiere in riflessione, dunque in confronto, in un momento di studio per poter poi compiere alcuni passi, alcune scelte che si inseriscono in quello che la comunità ecclesiale nel nostro territorio diocesano ha sempre fatto ma che oggi ha bisogno di una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza perché noi dobbiamo dire no a tutti quei poteri occulti che ci distraggono dai processi di promozione umana, da quei processi di liberazione vera, da quei processi di ricerca della verità. Dunque questo è un tempo di riflessione, un tempo che ritengo per la nostra diocesi, per tutta la nostra diocesi che è profiguo perché ci porterà sicuramente a convergere in alcune scelte che diventano anche operative per tutta l'intera diocese. Grazie a tutti! Grazie a tutti!